Questione spirituale Questione spirituale Mi sono consigliato Ho tratto il mio voto Mi sono drogato Per non capire tutto Allucinato Media formazione Arma di distrazione La situazione Questione spirituale Questione naturale Forse è così Non è così Il punto di rottura Non toccare Il dolore La cura Un antivirus Non la sofferebbe Questa è una Ma fra me La fiducia La fiducia Il dolore La fiducia Il dolore Il dolore Il dolore Il dolore Non è così Non è così un italiano no contaminato sono un italiano contaminato questione spirituale forse è così non è così nella difenza nella sofferenza pronto soccorso aiutato aiutato del momento importante che ho trovato qui sei ricordato della mia storia del mio problema tutto quello che poteva tutto quello che poteva non sono contaminato domanda domanda chi ti ha consigliato non ti sei vaccinato risposta io mi sono consigliato questione spirituale questione naturale ma tu ma tu questa rimane dovevi farlo no 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 questione spirituale quindi mi Voglio ringraziare soprattutto chi è preso nel cui lavoro al pronto soccorso.